Anche la Diocesi di Milano parteciperà alla grande ostensione della Sindone attraverso una notte bianca con gli adolescenti il 24 e il 25 aprile. L'amore più grande, questo tema interroga proprio tutti, l'amore più grande è certamente quello di Gesù, l'amore più grande è quello che viene chiesto a ciascuno di noi in fondo nella vita, la capacità di tenere insieme l'amore e la sofferenza con una parola, quella che viene detta in riferimento alla croce di Gesù, la parola passione che è insieme il massimo dell'amore ma anche la sofferenza più grande, solo chi sa soffrire sa amare, senza la sofferenza non c'è amore vero, questo in fondo ci dice l'amore più grande.